Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Sulla FIPILI possibili disagi in entrambe le direzioni per lavori tra Ginesta Fiorentina e Empoli Est. In questa tratta è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze e la completa chiusura della carreggiata in direzione Mare. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Tratto chiuso per lavori tra l'Arsena Toscana Est e Livorno in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!